Sulla metà di via Goito incontriamo la via Carbone di cui la parte di destra mette in comunicazione via Goito con la via Magnani avente sull'angolo il famoso cinema Bios fondato nel 1907 dal cavalier Gaetano Spiller nei locali appartenenti al vecchio teatro fedeli che da antica data era stato spostato da via Magazzini a quel luogo. Il nome Bios non era una dicitura straniera ma l'iniziale del motto che volle forgiare il suo proprietario Spiller bisogna intervenire ogni sera. La parte di via Carbone sulla sinistra attraversando un voltino che dal popolo veniva chiamato al porghin di muleta in quanto vi aveva preso di mora le botteghe degli arrotini si giunge sotto il portico dell'aio così chiamato in quanto sotto di esso si praticava il commercio di dettortaggio si entra così in piazza delle erbe.